Dov'è? Sta così giorno e notte da quando è tornato. Mandante? Hai visite? De chi? Eh, de chi? Cosa ci fai ancora vestito così, eh? Io vado? No, Anna. Grazie, donna Anna. Grazie. Por favor, mi tienda e tu tienda. Accomodati, accomodati. Che vieni. Che vieni a vederci, che vieni a rivederti. Sì. Sientate. Ho provato a chiamarti. Sì, no, 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 no. Tengo mai il telefono, non sei sicuro. In che senso, scusa? Interceptato. Ma da chi? Produzione audiovisiva capitalista. Ora, ora sto scrivendo un pamphlet, un libricino, sopra la rivoluzione magmediastica. Scusa. Ah, scusa, perdona, perdona. Scusa, hai ragione. Grazie. No, se fuma, sin compartir. Toma, il tertero. E te sei il favorito di Fidel, eh? Tertero, toma. No, Picchio. No te gusta, no te gusta il pulpo. Picchio, mi devi firmare il contratto di Draghi. No. Col tuo nome. Non lo hai firmato con il mio nome? Eh no, hai firmato con il C. Il C è siglato cada pagina, e spesso al final, la pagina final, por il teso. E hai scritto Ernesto Guevara. Sì. Ti serve tambien comandante? Mi serve Pierfrancesco Favino. Non lo hai firmato con il crompo. Mi, puoi. Siamo qui. Grazie.